Flavio Roda, presidente della Fisi, presente anche lui a grado alla festa dello sci del Friuli Venezia Giulia. Quale ruolo ha questo comitato presidente all'interno della Federazione Italiana? Beh, direi che è un ruolo determinante, come tutti i comitati alpini in particolar modo. Però il Friuli è sempre stato un comitato molto attivo, molto attento all'attività giovanile. Direi che quella è proprio la mission più importante di un comitato. E poi anche proprio come promozione, promozione del territorio, promozione della montagna, dei nostri sport della neve in generale. Quindi per la nostra federazione è uno dei comitati più importanti e più determinanti che ci sono in Italia. Immagino lei si riferisca in particolare all'ottimo rapporto con la regione, no? Beh, sicuramente. Questo è una grande cosa. In effetti qui la regione è molto attenta alla montagna, l'ha dimostrata anche nella gestione di tutte quelle che sono le stazioni e dà un grosso supporto allo sport, perché dà il supporto a tutta l'attività, al comitato in particolar modo, ma a tutta l'attività sportiva. Stando a livello nazionale siamo riduci da una splendida stagione con risultati agonistici importanti. Quella che si appresta ad iniziare è importantissima perché ci sono i mondiali di tutte le discipline. Che cosa ci possiamo aspettare, Presidente? Beh, abbiamo lavorato tanto. Le squadre stanno lavorando, c'è una grande preparazione. Abbiamo aumentato quelle che sono la parte anche economica in poi tutti i gruppi di lavoro, perché abbiamo non solo quest'anno, ma poi il prossimo anno ancora, diciamo, più importante, perché quest'anno è un anno mondiale, il prossimo anno olimpiadi, quindi sono due anni che veramente sono quelli che dovrebbero far vedere il frutto di questo quadriennio. Dobbiamo dire che la federazione in questo momento è in buona salute e questo è molto importante perché abbiamo nuovi sponsor, direi che a livello finanziario stiamo andando bene, quindi abbiamo risolto tutti i vecchi problemi che avevamo e questo è un buon aspiccio perché ci sia veramente un proseguo importante per la nostra federazione. Grazie.